Non appena giunti a Lama, ma nello spazio di 5 minuti, almeno due cittadini infuriati hanno lamentato il mancato rispetto degli orari di distribuzione pubblicati da ieri sul sito della partecipata. Per molti che nelle ore indicate hanno aperto i rubinetti è arrivata infatti la brutta sorpresa, niente acqua in alcune palazzine del Via Lergina Elena e niente acqua in Via Olimpia. Dalla stazione di telemetria chiariscono che il livello nei serbatoi centrali è troppo basso e che a questo si è aggiunto qualche problema tecnico. È possibile chiudere uno dei serbatoi centrali e direzionare l'acqua altrove? Come è possibile decidere di attivare solo alcune condotte minori oppure bloccare e pompare l'acqua in quelle più lontane che riforniscono ad esempio Torre Faro, Castanella e Reginella? Questi orari abbiamo cercato di mantenerli tutti, a parte la zona di Via Olimpia perché abbiamo la condotta del serbatoio San Licandro che si è presa d'aria, stiamo mandando i tecnici per spurgare l'aria e poi stiamo cercando di riempire il serbatoio Montesanto che come vedete prende quota lentamente per dare un po' d'acqua nelle zone che sono state penalizzate tipo serbatoio Torre Faro, ospedale Papardo. Il problema delle zone più alte è che purtroppo facciamo delle distribuzioni ridotte, le condotte non si metteranno mai in carica. Nel pomeriggio possiamo garantire che diamo acqua alla zona di Minissale, Stata Statale 114, Tramistieri, cerchiamo di dare l'acqua là che non l'hanno avuta né ieri né oggi.